Stefano Amadio, soddisfatto, sorridente, un'altra vittoria, altri tre punti per una classifica che è sempre più bella. Sì, sì, sicuramente. È un grande risultato perché non era facile e in campo si è visto, comunque abbiamo saputo soffrire e abbiamo portato a casa tre punti importanti. Una partita che poteva alla vigilia sembrare semplice, facile e così non è stata? Ma assolutamente no, perché poi ogni partita è a sé, l'Aquila per dirti ha perso a San Marino, quindi anche oggi per noi non era facile, portare a casa i tre punti per una era troppo importante, ci siamo riusciti, siamo contenti. Parlavi dell'Aquila, domenica ci sarà questo derby, una gara particolare, la gara più attesa dai tifosi con quella con l'Ascoli, questa sconfitta dell'Aquila, come vi pone proprio in vista del derby? Ma a noi non fa differenza, noi dobbiamo andare lì e fare la nostra partita e basta, cercare di imporre il nostro gioco e portare a casa più punti possibili. È chiaro che sarà una partita difficile, loro vengono dalla sconfitta, noi siamo in un momento molto positivo e vediamo come andrà. I tifosi bruciano ancora la sconfitta dell'andata? Sicuramente cercheremo di rifarci, quello era un altro teramo e adesso siamo una squadra più matura, più consapevole dei propri mezzi e sicuramente faremo un'ottima partita. Manca ancora qualche giorno, però vogliamo parlare anche un attimo di quest'Aquila che sulla carta ha giocatori che potrebbero giocare tranquillamente nella categoria superiore? L'Aquila lo scopro io, è un'ottima squadra, ha fatto un mercato importante e ha aggiunto giocatori importanti a un organico già di grande livello. È chiaro che noi non ci sentiamo inferiore a nessuno, i risultati lo dimostrano e cercheremo di dimostrarlo anche lì. Quale potrebbe essere il segreto per battere al fattore rosso-blu? Non lo so, vedremo in settimana, li studieremo col mister. È chiaro che noi davanti abbiamo due o tre giocatori che fanno la differenza, lo vedete, penso che la faranno anche lì, spero. Giocherete in trasferta ma ci saranno tanti tifosi bianco-rossi? Lo speriamo perché ci danno una grossa mano anche in casa e deve essere così anche in trasferta.